Il centro polispecialistico Futura Diagnostica è una struttura all'avanguardia per dotazione tecnologica e specializzazione del personale. Presso Futura Diagnostica, il robot Power Processor consente la consegna in tempi rapidi degli esiti degli esami eseguiti in condizioni di massima sicurezza. Presso Futura Diagnostica sono possibili esami particolari, come le indagini genetiche. Futura Diagnostica, tecnologia e professionalità al servizio della salute.